Si rinnova la tradizione che vede ogni due anni la partecipazione delle frecce tricolori alla festa di San Nicola a Bari. La formazione dell'aeronautica militare si è esibita sul lungomare l'8 maggio 2013. Quella barese è stata la seconda tappa nazionale delle frecce tricolori. L'esibizione della pattuglia acrobatica è stata preceduta da quella dell'elicottero HH-3F dell'84esimo centro SAR di Gioia del Colle, impegnato in una dimostrazione di soccorso in mare. Le frecce tricolori si esibiscono a Bari dal 1983, con cadenza biennale, e costituiscono un momento molto atteso dal gran numero di pellegrini e turisti, proveniente da ogni parte d'Italia e dall'estero. L'esibizione della pattuglia acrobatica nazionale, che vuole essere anche un omaggio alla città che dai lontani anni 30 ospita l'aeronautica militare, è il frutto di una intensa preparazione, di una sinergia tra le diverse componenti del reparto e di una continua interazione tra persone che fanno dello spirito di gruppo il loro punto di forza. Chi avesse perso questo emozionante spettacolo potrà apprezzarlo il 19 maggio a Orbetello, il 2 giugno a Roma, il 9 giugno a Parma, il 23 giugno a Vasto, il 7 luglio a Capodorlando in provincia di Messina, il 14 luglio a Chioggia in provincia di Venezia, l'11 agosto a Taurlì in Sardegna, il 18 agosto a Lignano Sabbia d'Oro in provincia di Udine, il 1 settembre a Jesolo in provincia di Venezia, l'8 settembre a Fermo Porto San Giorgio in provincia di Fermo, il 15 settembre a Castiglione del Lago in provincia di Perugia, il 22 settembre a Andorra in provincia di Savona e il 4 novembre nuovamente a Roma. Non mancano anche tappe all'estero, il 25-26 maggio in Francia, il 15-16 giugno nei Paesi Bassi, il 28-29 giugno in Austria, il 20-21 luglio in Regno Unito, 3 e 4 agosto in Ungheria. Ricordiamo che il calendario potrà subire variazioni in qualsiasi momento e per correttezza vi consigliamo di consultare anche il sito dell'Aeronautica Militare Italiana, www.aeronautica.difesa.it www.aeronautica.difesa.it